Eleganti ritratti di protagoniste del bel mondo parigino incorniciate all'interno delle sale fastosamente decorate del castello Estense. E' stata inaugurata il 31 gennaio con un immediato successo di pubblico la mostra dedicata a Giovanni Boldini e a Filippo De Pisis, con capolavori che tornano accessibili mentre sono in corso i lavori di restauro della loro sede originaria, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Massari. La mostra d'arte per l'arte significa per la città di Ferrara sostanzialmente due cose, la riapertura di uno spazio alla città finalmente attrezzato per eventi e per mostre, il castello cioè il cuore pulsante della vita culturale del Rinascimento ma anche potenzialmente della vita di oggi, della vita culturale ferrarese di oggi e l'altra cosa il recupero di un patrimonio che è quello delle opere di Boldini e di De Pisis altrimenti destinato alla conservazione nei cavò del museo in attesa del restauro di Palazzo Massari che sarà la più impegnativa delle opere di ristrutturazione dopo il sisma ma che ci permetterà anche di recuperare questo straordinario spazio. Nell'appartamento di rappresentanza al Piano Nobile una vasta selezione di dipinti e opere su carta racconta la parabola con cui Boldini si affermò come protagonista dalla ritrattistica internazionale tra Otto e Novecento, dalle prime prove dipinte nella Firenze dei Macchiaioli alle brillanti invenzioni che evocano le atmosfere della vita moderna nella Parigi degli impressionisti fino alle grandi icone del ritratto della Belle Epoque. Nei celebri camerini di Alfonso I, aperti per l'occasione, il testimone passa a Filippo De Pisis, anche egli ferrarese e attivo sul palcoscenico parigino. Una grande occasione che riporta il Castello Estense al centro della cronaca culturale italiana. Grazie.